La parola d'ordine della collezione autunno-inverno 2021-2022 di Albini è Eco Performance. Oggi più che mai sentiamo la necessità di circondarci di prodotti di alta qualità e che al tempo stesso siano rispettosi per l'ambiente. Scegliere i tessuti Albini significa soddisfare a pieno questa esigenza, rinnovando il proprio guardaroba non solo per una questione di stile, ma anche per l'impiego di materiali innovativi ed eco-friendly, perfetti per un stile di vita sempre più dinamico e consapevole. Anche i colori della collezione rispecchiano pieno questa filosofia con palette colori chiare e raffinate. Dal bianco in tutte le sue sfumature alle nuance dei beige e dei grigi melange arriviamo ai tocchi di colore più urbaneggianti. Siamo convinti che oggi l'eccellenza delle prestazioni sia la priorità e da questo punto di vista la nostra ricerca è continua. Ne sono un esempio i nostri tessuti Viroformula che grazie a una tecnologia all'avanguardia proteggono efficacemente da virus e batteri. Entriamo ora nello specifico dei nostri nuovi tessuti. Per l'anima più formale di Albini abbiamo scelto le migliori materie prime per dar vita a tessuti funzionali e adatti a tutte le situazioni. Per rispondere a questa necessità abbiamo creato i nuovi tessuti in cotone organico Biofusion. Si tratta di una mischia 100% organica di supima e cotone americano di altissima qualità proveniente da coltivazioni biologiche con un'origine completamente tracciata grazie alla partnership diretta tra albini e coltivatori. Un altro tessuto particolarmente adatto a chi sente la necessità di assoluto comfort con la garanzia di un prodotto 100% naturale è Yoga. Grazie a un innovativo trattamento offre un'elasticità completamente naturale senza ricorrere all'uso di componenti sintetiche. Anche per quanto riguarda il lato più informale di Albini il fil rouge è la sostenibilità che è coniugata alle alte prestazioni da origini a tessuti all'avanguardia. I tessuti Wooderful realizzati con fibre di Tencel presentano un touch naturalmente setoso e fluido. Queste fibre hanno un'origine vegetale e tracciabile e sono ottenute attraverso un processo produttivo a basso impatto ambientale. Sono tessuti che definiscono nuovi standard di sostenibilità e di comfort. I tessuti Tecno sono realizzati con filati di ultima generazione in materiale bioceramico in grado di proteggere i daoraggi UV e con un effetto di termoregolazione che assicura comfort e freschezza. Dal DNA di Albini fatto da un'attenta selezione delle migliori materie prime e dallo sviluppo di tecnologie all'avanguardia nasce oggi la collezione Everywhere. Una proposta contemporanea di altissima qualità dedicata ai tessuti peso abbigliamento che interpreta perfettamente la filosofia Eco Performance. I tessuti Everywhere conegano infatti l'utilizzo di materie prime organiche riciclate Eco Friendly con performance imbattibili. Albini guarda sempre avanti e con questa collezione abbiamo dato la nostra interpretazione del futuro migliorando il nostro presente. Grazie a tutti.